che caldo è una cosa veramente tremenda prima e ultima giornata sul By Bon questo mitico blocco del Dave Graham che però necessita di un po' di condizione perché dicono 8B più soft ma 8B più 27 gradi non si è mai visto va bene dai proviamo a vedere un po' sti move è un po' sti move Ah, sono lombra. Ah, sono lombra. Ok, faccio l'anzetto e il resto. Bene. Grazie a tutti. Questo è il modo migliore per farsi male, tirare biditi feroci con questo caldo. Nel dubbio. La nonna mi diceva che prevenire è meglio che curare. Penso non si sbagliasse. Vero, Nairael? Vero. Nastriamo il dito di Margalef che ritorna. Margalef non perdona. Sempre. Sempre. No. 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 No.